Valerio Bartazzo, sono il millesimo abbonato del calcio Padova, stagione 2018-2019. Allora, sono del 1979, vivo a Este, ma sono di soli giro. Adesso la prima partita in assoluto non me la ricordo, però da ragazzini, da 12 anni circa, venivamo con i miei amici, tra ieri da Munselice, e seguivamo molto spesso il Padova, è il vecchio stadio al piano. Il motivo per cui ho scelto il calcio Padova è perché sono Padova, mi sembra che questo sia più che sufficiente. Da quest'anno mi aspetto innanzitutto una salvezza tranquilla, così poi possiamo sognare di ritornare in Serie A. Sì, ho portato un amico che è qui presente. Ce lo presenti? Sì, è Bruno Naso. Ciao, mi chiamo Bruno Naso e vengo anch'io da Solesina. Sei il culto Padova? No, 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 no. No, 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 no. Grazie.